Nessuno vuole essere un allenatore alla Interestalling, sicuramente se segui i video sei molto più orientato ad essere magari un Giulio Cesare. Un buon allenatore, secondo Allegri, è una persona coerente, una persona che mette in campo le proprie esperienze personali, una persona che si confronta di continuo con colleghi, con avversari e soprattutto che ha un'innata voglia di sapere sempre di più. È come quando si ha giocatori, cioè se si vuole migliorare, se si vuole diventare più forti, bisogna comunque fare qualcosa di diverso dal solito, vero? Se uno come Allegri dice così, forse è meglio creerci anche vedendo la carriera che ha avuto. Comincia ad essere il miglior allenatore che puoi essere. Studia, leggi, sii curioso, perché solamente così potrai essere l'attaccante a cui tutti vogliono passare la palla, perché è l'unico che può portare la vittoria. Poesia pura.